L'8 di novembre, a Mondaut, sono tornati gli giornalisti dell'Inea Verde, lo programma del Rai 1 che parla del Paese. Questa va in onda domenica 18 novembre, a mezz'orna e vinde. Ci mi fatti un giro sopra la frana, andò a parlare con la protezione civile e con lo professore guadagna dell'Università di Benevento. Poi mi arrivate andò Silvio Masculo, lo figlio di Roberto, tenne la Oliva. Silvio è stato intervistato dal presentatore Fabrizio Gatt. Dentro al filmino c'è stanno i Mondauti che accogliono la Oliva. La puntata, infatti, parla di come è buono l'oglio fatto con la Ravece. Ha stato intervistato pure Massimo Gargano, lo presidente della col diretta dell'Ulazio. Anzieme hanno parlato di come funziona lo mercato dell'oglio e di tutti i problemi che c'è stanno quando si accatta e quando si vende. Le telecamere poi fanno vedere Mondauti dall'elicottero e pure Lucio Rovara, cuccherata presentatrice, Eleonora Daniele, la biond. Poi la troupe, quello masto Nicola Sist, sta spostata a Savignano quando fanno vedere la vacca podolica e poi lo girano in Irpina. Prima di arrivare a Mondella si parla del problema della castagna. Salute a tutti quanti! Salute all'immondautista da Lilia Verde!